A questo punto della discussione io credo che si possano, grosso modo, individuare alcune questioni che si sono sottratte all'animosità di questo dibattito parlamentare, alcune questioni per così dire trasversali, che sono state poste un po' da tutti i gruppi. E direi che sarebbe molto utile se noi, nello svolgimento di questo dibattito, concentrassimo l'attenzione su queste questioni in maniera tale da aiutare l'individuazione di una soluzione più coerente, più razionale, una soluzione che, per certi versi, non mi pare ci sia ancora. E sarebbe utile questo sforzo senza manicheismi, senza distinzioni tra chi pone dubbi e viene imputato della responsabilità di non voler fare le riforme e chi cancella il dubbio e affida un po' a una soluzione che resta ancora incerta l'organizzazione del nostro sistema istituzionale. Perché la questione di fondo, e quando dico questo penso ad alcune posizioni espresse da parlamentari del Partito Democratico, non è la legittimità o l'illegittimità di quello che stiamo facendo, ma la razionalità di quello che stiamo organizzando. E mi pare, grosso modo, che le questioni possano essere queste. La prima, la funzione del Senato. È vero che noi abbiamo approvato ieri l'articolo 1, c'erano alcuni emendamenti apprezzabili, penso a quello dell'onorevole Dattorre, che sono stati ritirati e ancorché noi abbiamo approvato l'articolo 1, restano alcune questioni da pulire, da definire sulla funzione del Senato. E credo che nell'analisi degli articoli successivi, in particolare faccio riferimento all'articolo 10, si possa aiutare alla puntualizzazione della funzione del Senato, che resta ancora un po' incerta. L'altra è sul procedimento legislativo. Non so se abbiamo considerato tutte le osservazioni fatte nei giorni scorsi dall'onorevole Buttiglione su questa carsica confusione che si potrebbe determinare in questo rimbalzo di chiamate sull'approvazione dei provvedimenti legislativi. È vero che noi mettiamo in discussione il bicameralismo perfetto perché il bicameralismo perfetto ha consumato la sua funzione storica. Però facciamo attenzione perché noi immaginiamo che la cancellazione del bicameralismo perfetto possa approdare a una rapida approvazione dei procedimenti legislativi. Non so se abbiamo fissato questa circostanza di fatto. Ad oggi, signor Presidente, l'80% dei provvedimenti che vengono approvati nasce come decreto legge e quindi ha il termine fisso di 60 giorni, pure nel rimpallo di competenze. Viceversa, noi stiamo approvando una riforma che riperimetra giustamente la possibilità di ricorrere al decreto legge e introduce un meccanismo che in alcuni casi potrebbe rilevarsi perverso nella chiamata di leggi tra una Camera e l'altra. Non vorrei che noi scoprissimo che giustamente cancelliamo il bicameralismo perfetto, ma l'introduzione di un bicameralismo diverso poi non ci porta ad avere una costruzione nell'approvazione dei procedimenti di legge armonica. La terza questione che io temo resti aperta, nonostante alcune cose dette in questa discussione oggi pomeriggio, è quella sulla composizione del Senato. Io ho capito questo, che la diversità di legittimazione si fonda o si rafforza sostanzialmente in ragione del fatto della distizione di competenze. E si richiamano alcuni esempi, soprattutto in ambito europeo. Però il Senato comunque si occupa di diritti. Basta fare riferimento alla materia della sanità. E occupandosi di diritti, al punto tale che quando questi diritti intercettano la rilevanza dell'interesse nazionale, vengono chiamati dalla Camera dei deputati, perché sia la Camera a decidere, rende impropria la circostanza che la composizione del Senato sia composta di secondo grado. Non perché l'elezione di secondo grado sia sbagliata. E non vorrei nemmeno richiamare la definizione schumpeteriana sul senso della democrazia, e cioè che l'esercizio della funzione di governo che incide sui diritti delle persone, se non passa dal voto, cancella la democrazia. Non mi interessa quest'argomento. C'è la circostanza che quando si discute di interessi delle persone che si qualificano come diritti, c'è l'esigenza che chi si carica di questa funzione sia legato in termini di rappresentanza alla volontà popolare. E un altro dato di fatto. Io non sono preoccupato della circostanza che i senatori vengano qui a fare il dopolavoro. Il problema è esattamente l'opposto, che la funzione di rappresentanza degli interessi regionali nella Regione, per le competenze che la Regione ha, non coincide con la funzione di rappresentanza di interessi sul piano del Senato. Non è lo stesso lavoro. Noi rischiamo di mettere in capo a una persona uno sforzo titanico, di dividere la propria testa. Un giorno rappresenta alcune cose, un giorno ne deve rappresentare altre. E questa combinazione, secondo me, non aiuta. Non è il banale ricorso all'elezione o l'aumento dei costi. Poi basterebbe che riducessimo il numero dei consiglieri regionali per i senatori che vengono eletti. Ma è la funzione propria di una persona che incarna le istituzioni e si fa carico di rappresentare quegli interessi. Poi, certo, possiamo ricorrere a una formula diversa, che non è l'elezione. Ma allora ha ragione l'onorevole Bindi. Primo si dovrebbe definire meglio il 117. Non lasciarlo così. Un po' ci si occupa di Europa, un po' di sanità. E l'altro aspetto è che o ci sono i governi regionali o noi introduciamo una quantità di conflitti che non rendono illegittima la riforma. Peggio, la rendono irragionevole. Allora, concentriamo lo sforzo su questi punti e facciamo in modo che la nostra discussione abbia un senso, come dire, costruendo la soluzione più utile. Anch'io mi aggrappo all'appello dell'onorevole Bindi non cancelliamo il dubbio. La velocità non implica la cancellazione del dubbio. Corriamo, andiamo, ma non cancelliamo il dubbio. E la circostanza singolare che, pur in un dibattito così, da tutti i gruppi su questi tre, come in alcuni altri temi, siano venute sollecitazioni a riflettere. È una cosa che non va fatta passare in secondo piano. Grazie.